buongiorno a tutti oggi siamo a chiasso per mostrarvi questo due e mezzo locali siamo al sesto e ultimo piano di questa palazzina entrando all'interno dell'appartamento veniamo accolti da questo corridoio molto ampio sulla parte destra troviamo tutta la zona notte composta da questa camera molto ampia come potete vedere ben illuminata alla sinistra della camera troviamo il bagno composto di specchiera lavabo vc bidet e vasca ritorniamo ora nel corridoio e percorrendolo andando sul lato sinistro dell'appartamento abbiamo la cucina una cucina composta di frigorifero congelatore lavabo piano cottura con fornelli a gas e forno terminiamo ora la nostra visita nell'area del soggiorno vedete che è un'area veramente ampia molto luminosa grazie alle ampie petrate che possiamo trovare e attraverso questa porta finestra possiamo accedere al balcone se vi è piaciuto questo appartamento e volete avere maggiori informazioni contattateci allo 00 41 91 921 24 28 ti affitto